Buongiorno. Sono le 17 e 32 di domenica ma io mi sono appena svegliato, da questa giornata pesante incominciata già da ieri. Tutto inizia, così, ieri, dopo dormite difficili, riesco finalmente a svegliarmi, verso mezzogiorno, e fare con la pranzo. Dopodiché, in pomeriggio partiamo a piedi, e si va al fiume. Lì è stato ok, acqua fredda al punto, giusto, tuffi di corda, cani mandingo, che facevano paura, e altre meraviglie offerte dalla natura. Non ci fu però l'anguria. Il giorno prima infatti, dopo la patata del venerdì, al mercato, ho convinto mio cugino a portare anche l'anguria al fiume, che ce la mangiavamo. E dopo alcuni chiarimenti del tipo lui che diceva, ma come la porto, che è aperta, e non possiamo metterla in acqua. E io che gli spiegavo, ma chi ha detto che la mettiamo in acqua, la portiamo per mangiarla mica a nuotare. Siamo riusciti infine, a portarla, e divorarla, come dei maiali. Purtroppo ieri niente anguria. Al ritorno il cugino, ci ha portato in macchina. Tornato a casa, sono andato poi al compleanno di mia zia, io non lo sapevo nemmeno perché non ricordo mai le date. Dopo sta cena con gente mai vista tutti pazzi, e fuori di testa, bambini, che piangevano fossero stati figli miei giuro. Schiaffi tutto il giorno, gente, che urlava, e un povero italiano, che non capiva un carscso perché erano tutti moldavi, questi propongono di andare al mare, il giorno dopo alle 7 del mattino e io, a malcoscienza, accetto. Mangiato bene, sono scappato, e poi siamo partiti a Bagnasco, per ballare come dei pazzi scatenati, in più c'erano le fontane di fuoco. Dopo un lungo giro, si torna, e ci si prepara per la serata. Io dato, che avevo pochi soldi, ho atteso pazientemente, fino a luna il ritorno di mia madre, che mi ha fatto uscire ricco. A quel punto ero pronto per la festa. Vado in disco, controllo la situa, mi guardo qualche rissa da vicino che manco fossimo a Royal Rumble, aspetto, gli altri, e poi niente. Alla fine, è andata bene, ed ho più incontrato delle mie vecchie amicizie. Dopo sono sceso come da tradizione a prendere la focaccia dal Carmel, e dopo la degustazione risalgo a piedi, e arrivato a casa, alle 5 mi ricordo, che tra due ore, si va al mare. Io però non avevo nemmeno un costume asciutto data la considerazione del fatto che son due giorni che vado al fiume. Ne prendo uno dalla lavatrice e l'appendo lasciandolo al suo destino. Stanco morto che crollo per terra, decido di dormire, e alle 7 entra mia zia in casa, e mi sveglia. Fuori faceva un freddo da pinguini e a me mi tocco mettermi il costume freddo e bagnato, naturalmente sopra le mutande. Preso sto zaino, vado da sta gente, che vi giuro non ho mai visto una famiglia di pazzi così, gente, che urlava, figli, che piangevano, gatti maltrattati, e poi c'ero io su una panca, che provavo a dormire. Ad un certo punto, quei babbi volevano non partire più, io, me ne sarei anche andato felicemente a casa a dormire, ma per qualche ragione, sono diventato la spina nel fianco del gruppo. In pratica, la capofamiglia cercava di convincere tutti, a partire con discorsi del tipo sto povero ragazzo, e venuto qua poverino, cos'è lo volete deludere così? Ma portatelo al mare veloce, e io mi sentivo un sacco a disagio. Quindi dopo che sono impazzito per bene in quella casa, siamo riusciti a partire. Eravamo con due macchine, una da rally, e poi quel trattore pericoloso, di mia zia, che giustamente dovevo guidare io che a mala pena, mi reggevo in piedi dalla stanchezza. Partiti, al cole, il pazzo col macchinone, che guidava la mandria, si è fermato perché non ce la faceva più a sopportare la mia guida, lenta da nonno malpicchiato. Così ho dato il cambio con il suo amico, e siamo ripartiti. Raga vi giuro che mi stavo caccando sotto, questo guidava peggio dei furi di testa, che conosco io. Andava velocissimo, e io ero, tipo, aiuto. Non per favore, ha, per favore, vai pianua, pianua, ralentai a tua, ha, cristia, aiuto a nonce al facci piua, ha, 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 Henri. Arrivati per fortuna, ci è voluto un po' per trovare il posto, tarocco al quale volevano andare loro, un posto, che quando entri c'è uno in strada con la sedia che ti fa pagare 7 euro, per 4 ore di parcheggio. L'acqua era molto più calda di quella del fiume e io mi sono rilassato un botto sul materasso gonfiabile. Ad un certo punto, ci mettiamo a mangiare, e da buoni moldavi, tirano fuori pane ed anguria, e si mangia, anche gli sti bimbi, minchia, continuavano, a rompere con pianti, ed altro. Mia zia mi passa un pezzo di pane e io lo guardo per un po' pensando, ma cosa dovrei farci? A quel punto, mi ricordo di avere una focaccia farcita, in fondo allo zaino, e quindi mi sfamo con quella. Continuo il relax in mare. Dopo aver scattato una foto ad una scarsa opera artistica fatta con le pietre, il mio telefono è morto per ipertermia. E tra una cosa ed un'altra, arriva l'ora di andare. Ma ora arriva il bello, perché in realtà, erano ancora le 12 e 30, allora, in cui la gente, arriva e l'acqua inizia, a scaldarsi, noi, ce ne stavamo andando. Si sale, si va, ed io stanco marcio provo, a chiudere, un attimo gli occhi per provare a dormire, quando sento solo più le ruote che fischiano, e la macchina che vola, e tra un po' sta testa di Kzos andava a sbattere perché prendeva tutte le curve ai 3000, dopo però ha continuato come nulla fosse, anzi, andava ancora più veloce. Al colle abbiamo fatto una sosta a caso e io ho visto le gomme in fiamme. Dopo siamo ripartiti peggio di prima e di nuovo a rischiare la vita. Fortunatamente siamo arrivati sani, e salvi e io vado subito a casa, ed era ancora l'una, e mezza circa, ora sono abbronzato nero, come una patata. Entrato trovo tutto uguale a com'era quando sono partito, a dimostrazione del fatto, che è stato un viaggio molto veloce breve ma intenso, probabilmente il viaggio al mare più breve, che abbia mai fatto, e sicuramente il peggiore. Stanco marcio, mi metto a dormire. E niente. Grazie per la visione. Torno a dormire. Ho fame. Ciao raga. Zdż zdż.